Buongiorno a tutti Buongiorno, l'appuntamento di oggi di Femmile dedicato al grande sciopero, alla grande manifestazione che si sta tenendo in queste ore a Roma da parte degli infermieri. Quindi sciopero degli infermieri, ne parliamo col segretario del Nursing di Udine, Afrin Casli, e del direttivo, componente del direttivo nazionale del Nursing, Stefano Giglio. Buongiorno, grazie per essere qui. Abbiamo detto che c'è questa grande manifestazione in questo momento a Roma, gli infermieri stanno scioperando in tutta Italia. Possiamo già avere dei dati, Casli, delle adesioni allo sciopero? Poi vedremo anche delle immagini che sono appena arrivate da Roma. Diciamo, la giornata di oggi è una giornata storica, purtroppo storica per gli infermieri, in quanto oggi siamo scesi in tutte le piazze per dimostrare il nostro dissenso da un contratto veramente che lo consideriamo vergognoso. L'infermiere è una figura importante, non solo in corsia ospedaliera, ma anche sul territorio, a 360 gradi e ovunque. Perché siamo oggi sulle piazze dell'Italia, soprattutto a Roma, dove dalle segreterie Nursing del Friuli, Valencia Giulia, sono partiti già tre corriere. Sono partiti ieri sera, no? Sono partiti ieri sera, esattamente, 180 colleghi, più abbiamo raccolto dati, diciamo, da tutte le aziende sanitarie, soprattutto nella provincia di Udine, dove c'è una forte manifestazione del diritto dello sciopero e sono tanti ambulatori, purtroppo, anche chiusi in giornata di oggi. Abbiamo garantito comunque, abbiamo garantito le urgenze e emergenze, perciò il cittadino deve stare tranquillo. Ecco, lei sta monitorando la situazione a Roma, che notizie le stanno arrivando da Roma adesso? Praticamente a Roma è ancora in corso l'incontro con l'Aran, di tutti i sindacati, compreso l'Inursin, è iniziato ieri alle 10 di mattina e si è fermato solo alle 10 e mezza di sera per una pausa, dopo si sono ripresi di nuovo le trattative e solo tuttora. Già il fatto che l'Inursin è presente nei tavoli della trattativa e questa trattativa per il rinnovo del contratto sta andando veramente lungo, ne dimostra la forza di questa categoria, degli infermieri che sono scesi in piazza. Ecco, vorrei sentire anche Stefano Giglio, vi hanno promesso 80 euro lordi di aumento al mese, siete senza contratto da 10 anni praticamente e questo aumento non ha neanche effetto retroattivo, quindi non sareste coperti per 7 anni almeno. Esattamente, credo che sia una cosa che non ha storia, perché in genere tutti i rinnovi contrattuali hanno sempre previsto la retroattività dal momento in cui questo contratto non era più in essere, solo che purtroppo tutti i vari decreti che sono stati emanati dal governo, quindi il vario decreto Bonetta, Monti, Letta e quant'altro, hanno tagliato i fondi per poter garantire un adeguato rinnovo contrattuale. E quindi questo ricade sulle nostre spalle, anche perché onestamente di questi 85 euro lordi, se ne vedremo 30 di netti, saranno forse tanti. Comunque al di là del riconoscimento economico, voi chiedete altri riconoscimenti, perché il riconoscimento economico è una componente importante, essenziale, però ci sono altri aspetti che vanno tenuti in considerazione, proprio nel rispetto della vostra professione. Ecco, la professione dell'infermiere è quella professione che è il punto cardine dell'assistenza generale all'interno di tutte le strutture sanitarie, anche perché l'infermiere è l'unico responsabile dell'assistenza infermieristica e se ne fa carico tutti i giorni dell'anno, mattina, di pomeriggio, di notte, nelle feste, quando è la nostra missione, è il nostro lavoro e ce l'abbiamo scelto noi e lo portiamo avanti con dignità. Ma proprio questa dignità che noi portiamo tutti i giorni all'interno delle strutture sanitarie vorremmo vedercela riconosciuta in modo adeguato. Non vogliamo dei riconoscimenti stratosferici, vogliamo quello che ci meritiamo. Effettivamente questo riconoscimento non c'è. Il cittadino, almeno, lo riconosce? Nei vostri confronti, anche quando ci sono persone ricoverate in ospedale, si rendono conto delle problematiche? A parte che uno, se sta male, è logico che pensa alla propria salute e non si rende conto anche delle problematiche a cui andate incontro voi, che dovete garantire un servizio. Lei ha praticamente fatto una domanda sacrosanta, no? Ecco, io già all'inizio volevo proprio... Perché ogni tanto arrivano, no? Le lamente le ha, quello mi ha trattata male, non sono stato trattato bene... Esattamente. Vi arrivano. Quindi non sono nel mirino solo i medici, siete anche voi nel mirino. Eh, assolutamente. Io direi che siamo più noi che i medici senza nulla togliere a nessuna professione, ma proprio perché l'infermiere è il primo impatto con il cittadino. Certo, prima linea, sì. È quello ovunque, anche in pronto soccorso, durante il triage, ma anche negli aspetti dell'ambulanza o nel territorio, che sono praticamente gli infermieri quelli che hanno il primo impatto. Alla sua domanda, che veramente è una domanda proprio che volevo collegare con il discorso che avevo fatto prima, è proprio quello. Oggi non è lo sciopero solo degli infermieri. Oggi è lo sciopero di tutti i cittadini. Perché i cittadini devono capire se hanno un infermiere davanti pieno di carico, diciamo, emotivo. Se hanno un infermiere non stanco e estremato come il giorno d'oggi, hanno più qualità di assistenza. L'infermiere, il giorno d'oggi, al contrario della sua trasmissione, che parla del benessere, noi abbiamo portato il malessere. Ma il malessere non si rispecchia solo nelle nostre vite personali e nelle nostre famiglie. Si rispecchia a volte, purtroppo, anche in quello che sono i lavori in corsia. Perciò il cittadino è a fianco dell'infermiere il giorno d'oggi. Ne siamo convinti e sicuri. Perché un infermiere che è, diciamo, estremamente liberato dal tanto carico di lavoro, un infermiere non può lavorare 16-20 ore al giorno. È impossibile. Perché adesso? Adesso con contratto nuovo, addirittura, vogliono che andiamo a firmare un contratto dove vogliono anche eliminare una normativa europea che prevede almeno un riposo di 11 ore per gli infermieri. Cosa che invece non riuscite a fare? Spesso no. Ma questo anche per i medici, no? Che dovrebbe esserci questo riposo e non sempre... Tutti i dipendenti della sanità pubblica devono rispettare appunto questa normativa europea. E anche prevede la 161 che lo prevede che tra un turno e l'altro di lavoro devono esserci almeno 11 ore di riposo. Ma se andiamo ad avvallare la deroga che le maggiori sigle sindacali vogliono portare avanti rispetto a questa normativa europea, vuol dire sconvolgere completamente l'attività quotidiana, vuol dire consentire e garantire che un infermiere può lavorare anche più del doppio del suo orario di lavoro. Quindi questo sarebbe insostenibile dal punto di vista psicofisico, ma soprattutto dobbiamo sempre pensare qual è l'esito che andiamo a produrre in termini di salute da un'attività costruita su un personale che non è perfettamente in grado di svolgere il proprio lavoro. Quanti siete qui in regione? Avete un numero? Vi ricordate? All'incirca in regione ci sono quasi 11 mila infermieri che lavorano divisi tra il pubblico impiego e la sanità privata, in qualche situazione anche in qualche ambulatorio privato, comunque però la gran parte, diciamo che l'80% è situato all'interno delle strutture sanitarie. Ecco mi piacerebbe parlare anche della vostra preparazione. Perché? La nostra preparazione ha avuto delle evoluzioni abbastanza importanti, tanto che abbiamo visto... Perché un tempo non era richiesta la laurea, non era richiesto il corso di laurea, ma c'era... Facciamo un momento così, un excursus su come è cambiata appunto anche la formazione professionale vostra. Siamo passati da periodi in cui, se dobbiamo cominciare a ragionare dal primo dopoguerra, dove veramente queste infermiere erano le cosiddette ancelle dei medici, perché erano persone così buone, così diciamo cariche di volontà, di trasmettere al malato tutto ciò che loro erano in grado di poter fare. Ma era una formazione così costruita proprio sul campo. Piano piano questa formazione è andata via via sviluppandosi all'interno delle regioni. C'era la scuola, no? C'era la scuola un tempo, la scuola infermieri. C'erano le regioni che avevano i corsi cosiddetti regionali, che venivano così agganciati agli ospedali, alle strutture sanitarie, quindi gestivano la parte formativa sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. E gli infermieri in quel contesto, in quegli anni, vivevano una realtà in cui il giorno dopo che avevano così tenuto l'esame di abilitazione, entravano immediatamente a lavorare, erano già sul campo, anche perché c'era proprio una estrema necessità di personale, come c'è anche tuttora. Piano piano l'evoluzione, anche in virtù delle normative europee, ci siamo agganciati ai primi corsi di diplomi universitari, per poi transitare direttamente negli Atenei, alle lauree in scienze infermieristiche, per arrivare ai dottorati di ricerca e quindi arrivare anche a un percorso formativo che si completa a 360 gradi, perché una professione come quella dell'infermiere che arriva a poter svolgere anche i dottorati di ricerca, e quindi tutte le lauree specialistiche e quant'altro, vuol dire che si completa veramente a tutto tondo e quindi a piena potenzialità delle proprie competenze, delle proprie caratteristiche. Tra l'altro è una delle professioni più ambite, numero chiuso. Sì, anche qui giustamente si cerca sia dal punto di vista... Numero chiuso, piuttosto anche ristretto come numero. Ma sì, il numero chiuso ha un pregio e anche un difetto, perché da una parte il pregio più importante è che si riesce a portare a termine un percorso di studi che qualitativamente forma un professionista infermiere che è in grado dal giorno dopo a lavorare in qualsiasi ambito della sanità pubblica o privata. Dall'altra parte il numero chiuso purtroppo consente un limite alla formazione stessa, perché a quel punto lì non sforniamo tanti infermieri rispetto alla necessità di richiesta delle aziende, però questo è un aspetto che il Ministero, in collaborazione anche con gli Atenei, sta vigilando in maniera tale che si trovi un certo equilibrio per evitare che poi dopo ci sia troppo personale sul territorio, ma che non si riesca neanche ad assorbirlo all'interno delle strutture. Ebbè, lo dimostra anche il concorsone, no? Certo. Magari lo affrontiamo, questo discorso, nella seconda parte di trasmissione. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Eccoci nuovamente in studio. Allora, Giglio, parliamo ancora della preparazione degli infermieri, perché si sono aperte negli anni tante possibilità per loro. E facciamo anche la differenza fra gli OSS, anche perché i cittadini capiscano che differenza c'è fra l'infermiere e l'OSS. Tante volte si tende a confondere, no? Dunque, intanto va ricordato appunto che l'infermiere, accedendo alla laurea in scienza infermieristica di primo livello, poi dopo ha la possibilità di poter transitare a una laurea di secondo livello, quindi che completa il suo percorso. Inoltre, nel tempo ci sono già diversi infermieri che ci sono dedicati anche alla ricerca e ai dottorati, quindi di specializzazione in alcuni ambiti, che li hanno portati a fare un vero e proprio percorso di studi particolareggiato sulla vera e propria ricerca in scienza infermieristica. E quindi quello che ci dà la possibilità poi dopo di recuperare una serie di dati, una serie di numeri che vanno a così organizzare anche il lavoro futuro, perché andando ad analizzare tutti i percorsi dal punto di vista sia clinico che assistenziale, si possono dedurre una serie di dati che per noi sono molto importanti perché ci fanno capire qual è, diciamo così, il concetto di salute all'interno delle strutture. E la nostra organizzazione del lavoro deve per forza andare di pari passo anche con questi dati che certificano quelli che sono, come dicevo anche poc'anzi, gli esiti che noi andiamo a produrre. Noi lavoriamo fianco a fianco con una figura tecnica che è appunto considerata tale, l'operatore sociosanitario, il quale si occupa in nostra presenza di una serie di attività che sono prettamente più portate alla vicinanza al paziente ma dal punto di vista igienico alberghiero e quindi possono collaborare con noi nell'esecuzione di manovre molto semplici, ma di fatto però hanno un ambito di attività che è sotto la nostra precisa responsabilità e quindi tutto ciò che loro devono fare lo devono fare su nostra supervisione, quindi su nostro controllo. E quindi è una figura che è prettamente tecnica, mentre invece la nostra è una figura professionale e soprattutto ha un ambito di autonomia molto molto più ampio. Ecco, mi diceva Casli, che percentuale di infermieri che sta lavorando ha la laurea magistrale? La figura dell'infermiere è diciamo al completo, cioè nel senso che l'infermiere dopo la laurea in scienze infermieristiche tantissimi infermieri proseguono altre vie magistrali, diciamo anche altri corsi e soprattutto anche i master di specializzazione. Detto ciò, i master, nonostante che con tanti sacrifici gli infermieri li hanno fatto proprio a loro spese, in Italia ancora non sono riconosciute. Cioè hanno un master, per fare coordinatore deve avere il master, ma quel master è pagato completamente dall'infermiere, dall'altra parte non viene conosciuto, è riconosciuto nelle aziende sanitarie. Ecco, veniamo al concorsone. Quindi si laureano in troppo pochi, però ci sono tanti che partecipano ai concorsi. Veniamo, diamo così, in anteprima anche gli esiti del concorso qui delle Friuli Venezia Giulia. Allora bisogna... Perché voi avete avuto adesso questi risultati. Sì, sì, già ieri sera. Intanto bisogna ricordare una cosa, no? La professione infermieristica, gli infermieri adesso nelle corsie sono sempre più vecchi, non c'è un cambio di generazione. C'è una media da 45 anni che va a 60 anni. Perciò questa mancanza cosa comporta? Comporta che nelle corsie siano degli infermieri sempre più stanchi e sempre più giovani disoccupati. Il concorso, intanto faccio i miei complimenti alla direzione dell'Egas che tutto sommato questa volta ha fatto un buon lavoro. Un concorso, la preselezione è riuscita, diciamo, senza incidenti o altre cose. E faccio dei complimenti ai colleghi che sono passati. Ecco, quindi diamo numeri precisi. Sì, all'inizio c'era un... Esattamente, erano 12.500 infermieri che dovevano presentarsi al concorso. Alla fine, nelle tre sedi, Pordenone, Trieste e Udine, si sono presentati solo 4.590. Di questi sono passati in graduatoria, che proseguiranno ovviamente le altre prove, prove pratica teorica e orale, solo 1.000. Passati 1.000? Passati 1.000, esattamente. Ecco, la percentuale della nostra regione su questi 1.000? Diciamo che siamo contenti anche su questo punto di vista. Dio, sono tutti i nostri colleghi, no? Però sono tantissimi infermieri che lavorano già nelle corsie. E sono passati, diciamo, un 70% delle infermieri che lavorano in regione Friuli-Venestia Giulia con buoni risultati. Perciò li facciamo in bocca al lupo a tutti i nostri colleghi. Ecco, perché adesso dovranno superare ancora che cosa? Sì, già il primo marzo c'è l'altra prova orale scritta e dopodiché devono fare anche la prova pratica. Ecco, quindi ritorniamo allo sciopero, perché abbiamo aperto questa trasmissione con lo sciopero degli infermieri. Vediamo se riusciamo ad avere ancora le immagini che ci sono arrivate prima di iniziare la nostra trasmissione da Roma. Quindi ribadiamo le motivazioni che vi hanno indotto a scendere in piazza. E tra l'altro, anche così avete vissuto male le ultime ore prima di cominciare con lo sciopero? Sì, diciamo, le motivazioni sono tante. Non è questione che noi siamo scesi in piazza solo perché sono tanti euro lordi. Qui noi stiamo parlando della dignità, della dignità di una professione che ne sono più che convinto ha dato tanto a questa sanità e ha ricevuto quasi niente. Anche i diritti che c'erano prima li vogliono calpestare. A questo punto noi diciamo no. Diciamo no con forza. Meritiamo e siamo sicuri di meritare il rispetto anche per il lavoro che facciamo. Siamo scesi in piazza e continueremo a fare una cosa del genere. Per il semplice motivo perché in un comparto dove sono mischiati gli infermieri, os, tecnici, autisti e tutte le figure ospedaliere, non tutti siamo uguali. Siamo uguali in quanto esseri umani ma non siamo uguali in quanto la professione. Perciò deve essere anche un contratto che va a dare quello che è per l'infermiere quello che è per un autista o piuttosto di un'altra professione. Ma avete sofferto fino all'ultimo momento perché non sapevate se potevate partecipare allo sciopero. C'è stato questo no, questo inghippo dell'ultima ora? L'avete risolto comunque all'ultimo minuto, ma su filo di lana. L'abbiamo risolto veramente con il lavoro magistrale di tutta la direzione nazionale, di tutte le segreterie provinciali e regionali, di tutti i coordinamenti regionali. Perché? Perché chiaramente questo sciopero evidentemente faceva un po' di paura. Ma cosa è successo? Nelle aziende sanitarie non sono stati comunicati i nominativi di chi doveva fermarsi a lavorare per garantire i servizi? Sono stati comunicati questi nominativi in tempi abbastanza ritardati rispetto anche alle normative vigenti proprio dal punto di vista contrattuale. Evidentemente la paura che qualcuno poteva avere che questo sciopero desse veramente i risultati di cui ci stiamo accorgendo adesso con le immagini che avete fatto vedere anche voi era un po' elevata. E quindi c'è stata un po' così una manovra anche un po' di boicottaggio da parte di qualcuno per far sì che gli infermieri credessero che in virtù del tavolo negoziale che è attualmente in atto si potesse sciogliere le righe e dire revochiamo anche noi lo sciopero. Ma le motivazioni che hanno sostenuto questa decisione da parte della direzione nazionale e da parte di tutti i coordinamenti regionali non sarebbero cambiate al di là dei risultati del tavolo stesso. Perché voi avevate garantito che i servizi per l'emergenza ci sarebbero stati comunque. Esattamente. Quindi avevate già deciso nel vostro interno. Certo, certo. La linea della direzione nazionale era quella di portare gli infermieri in piazza a manifestare questo dissenso e soprattutto a far sentire la voce di una professione che è veramente delusa per come è stata trattata. Quindi delusione forte. Delusione forte, sì, anche perché poi quando ci siamo... Da quanto tempo non c'era una manifestazione così importante per la vostra categoria? L'ultimo l'abbiamo fatto quattro anni fa. L'ultimo l'abbiamo fatto quattro anni fa e siamo scesi a Roma, ma questa volta è molto sentita. È molto sentita perché è passato tantissimo tempo dall'ultimo contratto, ma veramente vediamo nelle corsie i nostri colleghi che stanno soffrendo, non solo il fatto del contratto, ma anche l'organizzazione lavorativa. Ritornando un po' a quello che diceva lei, noi abbiamo scritto anche il prefetto di Udine di Gorizia per mettere in guardia su quello che stava succedendo, no? Perché le aziende erano in un ritardo di cinque giorni per mettere i contingenti minimi per poter organizzare. Oggi, stamattina, ho avuto anche risultati, abbiamo una grandissima percentuale di infermieri che hanno scioperato, stanno scioperando e sono stati anche precettati, che arriva al 75%, è una cosa, tantissimi ambulatori oggi sono trovati chiusi. Quindi 75% dove? Degli infermieri che praticamente in tutta la provincia, la media, che hanno voluto partecipare, stanno partecipando e sono stati precettati dalle aziende. Quindi siamo quasi in chiusura di trasmissione. Cosa vi augurate per la vostra professione? Il primo augurio che noi vorremmo trovare dalla prossima settimana è quello che ci sia la possibilità, come ci sarà nel breve termine, che gli infermieri veramente abbiano la possibilità di sedersi intorno ai tavoli delle discussioni dove si tirano le fila dei discorsi e dove si organizza il lavoro della nostra professione per il futuro. Perché solamente noi conosciamo le problematiche della nostra categoria, solamente noi conosciamo le problematiche dei colleghi che ci stanno a fianco e quindi siamo in grado di poter dare quel contributo organizzativo necessario a poter migliorare il lavoro futuro. Bene, chiudiamo. Velocemente, 50 secondi. No, vorrei proprio... Inoltre ringrazio lei per l'opportunità che ci ha dato, ma vorrei dire solo una cosa a tutti i telespettatori. Gli infermieri meritano rispetto. Noi siamo sempre nelle corsie e abbiamo sacrificato anche la vita delle nostre famiglie per dare l'assistenza a tutti quelli che sono rivolti a noi. Però noi da oggi meritiamo rispetto. Rispetto che deve essere reciproco. Reciproco. Esattamente. Grazie quindi a Afrin Casli, segretario Nursind di Udine e Stefano Giglio che fa parte del direttivo nazionale del Nursind. Grazie per essere stati qui, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family ci vediamo venerdì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.